Conossendo le difficoltà in cui sono state poste le amministrazioni provinciali, che in pratica sono state cancellate, creando dei grandi disservizi ai cittadini, è veramente una soddisfazione vedere che alcune opere sulle strade provinciali nel comune di Bercetto vengono fatte. Qui c'era una frana che creava notevoli disagi, soprattutto i pendolari, è stata sistemata e grazie anche all'intervento dell'autocommunale della Cisa sono state sistimate a monte anche tutte dei ristagni d'acqua che provocavano un danno su questa strada. Ho l'impressione, anche se non me ne intendo, che siano stati fatti dei buoni lavori e spero che non succeda come è successo anni e dietro che il Manubiola provochi degli altri smottamenti su questa strada, che è la strada più percorsa dei pendolari. Grazie 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 Grazie